Ciao a tutti, oggi è il 26, quindi giugno ovviamente, quindi in Italia finalmente, dopo mesi rispetto alle altre parti del mondo, o insomma anche d'Europa, è uscito Apple Watch. Sono appena tornato da un Apple Store e ho preso il mio modello, che adesso vi farò vedere. Questo intanto era il sacchetto che ti danno, con il cordino dovrebbe essere in abbinato al colore del watch, o meglio del cinturino. E tralasciando questo vi farò vedere il modello, che poi ho preso uno sport da 38 mm, vista la misura del mio polso che è abbastanza piccola. E poi ho preso anche un cinturino, già che c'ero lì e non so se si trovava in altri posti, a parte ordinario online, a aspettare a casa. E questa, come vi ho detto, è il modello, beh, intanto qua è la scatola, vediamo che devo ancora aprire, è ancora pericolo, eccetera. E questa è la scatola, abbastanza semplice, con un tipo incisione Apple Watch qua. Poi da questa parte niente, qua abbiamo insomma le solite scritte, come ci sono anche nelle scatole dell'iPhone, eccetera. E qui abbiamo il riassunto del modello. 38 mm, la serie 7000, il colore, spesso è space grey, il vetro e basta insomma. E adesso, se mi procuro una forbice o qualcosa, lo aprirò. Il prezzo, ve lo dico già da subito, è più alto d'Europa come sempre, infatti costa 419, mentre ad esempio in Francia è 399, per questo modello ovviamente, il Sport da 38. E iniziamo senza fare danni. Ecco qua, pian piano. Questa via. Giriamo e alziamo. Qui avremo una matriaca di scatole, infatti dentro la prima scatola, troveremo un'altra specie di astuccino, dove sarà contenuto il watch, anche questo tutto incelofanato. Qui, adesso lo tiro fuori, qui abbiamo il caricabatterie standard, quello che si attacca al muro. Ovviamente il telefono suona quando non deve suonare. Qui abbiamo tutti i fogli Apple Watch, tipo manuale, di istruzioni. Infatti vediamo. Ma penso che ci interessa relativamente, anche perché avrete visto e strarivisto. E qui abbiamo un altro cinturino, infatti è dotato di due cinturini, uno più grande e uno più piccolo. Qui abbiamo niente, che abbiamo appena visto. Questo è il cavo. Magnetico, adesso vi dirò meglio. Col cavo finalmente lungo, non si sono più sfocati a fare mezzo metro di cavo come con l'iPhone. E adesso arriviamo al pezzo forte, diciamo. Se scopriamo come si apra, ecco qua c'è la linguetta. Non so se vedete, è questa verde. Con una freccina che ci indica il senso da tirare. E' tutto curato al dettaglio, come sempre. Questo si alza. E qui abbiamo l'astuccio vero e proprio. Con il logo inciso Apple. E basta. Qui presumo che andrà ad alzarsi. Anche all'interno, vediamo che è tipo soffice, con l'incisione Watch Sport. E finalmente l'oroggio. Qui c'è una linguetta, questa qua, bene o male, spero che si veda che indica di sollevarla da qua. E finalmente abbiamo tra le mani il tanto desiderato e aspettato Apple Watch. Il cinturino è fantastico, è tipo gomma ma morbida. Veramente molto molto... Sì, non so, è una gomma strana. Si vede che insomma non è di qualità così scadente, anzi. Qui dietro avremo... Beh, adesso apriamo. Qui c'è un'altra linguetta da queste parti. Eccola qua. Che andrà tirata. E qui, questa qua, una linguetta che non capisco il senso, ma va staccata così. L'oroggio, sì, non è pesante assolutamente, però sì, si sente, insomma, ha un suo peso ovviamente. Qui abbiamo i sensori, ma adesso vi dirò un po' meglio. E non si vede, ma intorno c'è una scritta tipo Watch Sport. Vediamo un po', vedete qua, contro luce, un po' si vede. È veramente molto bello vedere dal vivo. Oggi ho visto anche il 42, anche il 42 è molto bello. Io ho scelto il 38 perché ho il polso piccolo. E non mi piacciono i patacconi, così si possono definire quelli troppo grandi. Ebbè, un paio di statistiche, le dimensioni sono 38x33x12,5 mm, ovviamente altezza, larghezza e spessore. E' alluminio, 7000. Quindi la versione Sport è alluminio, poi c'è ovviamente la versione in acciaio e poi una versione in oro. Il colore è questo qua, è grigio siderare. Cioè, questo è nero siderare, ma esiste anche grigio, volevo dirvi. E' materiale alluminio, come vedete, anodizzato serie 7000. Processore Apple S1, con la RAM che dovrebbe essere da 512 MB in teoria, perché io almeno non lo so esattamente, ma da così ho trovato scritto in giro. Poi sì, in teoria appunto, perché non si sa, notizie certe riguardo non le ho avute, ma vabbè. Beh, il sistema operativo è WatchOS. Adesso siamo ancora ad uno, ma a breve, tra qualche mesetto, insomma dovrebbe uscire il due, che già in beta si trova. Gli output di questo orologio sono una vibrazione e lo speaker. La vibrazione deve essere molto carina, ma da quanto dicono, perché non è una vera vibrazione, nel senso proprio, ma fa un effetto simpatico da sentire sul polso. Come input abbiamo la corona digitale, che è questa piccola coroncina qua, ma che saprete benissimo. Molto soffice e morbida al tatto. Cioè, però gira veramente molto fluido, è molto bello da girare. Poi cosa abbiamo? Il multi-touch, ovviamente, il microfono e il Siri. Infatti il Siri si tornerà molto utile con questo dispositivo. La ricarica, come ricarica abbiamo il Mega Safe magnetico. Infatti fa tipo, senza far danni, vi faccio vedere che lo tiene. Non lo sape. Così si dovrebbe capire meglio, diciamo. Con le connettività abbiamo l'NFC, che è per i pagamenti, il Bluetooth e il Wi-Fi. Come sensori abbiamo l'accelerometro, un giroscoppio e il sensore di battito cardiaco, che ovviamente sta qua sotto. Cosa dobbiamo? Boh, si può dire batteria, che dovrebbe durare 48 ore. Usandolo come orologio basta. 6 ore e mezzo come riproduzione audio, 6 ore, 5, mentre 3 ore in conversazione, 6 ore, 5, usando come pre-allenamento, e 72 ore di basso consumo, che è una modalità che fa consumare meno, appunto. Compatibile con iOS 8.2 in su e da iPhone 5 in su. Ovviamente abbiamo anche il Force Touch, penso che sia il termine esatto, che l'orologio riconoscerà se si preme un tocco, oppure se si tiene premuto per più tempo. Cioè più forte, diciamo, non per più tempo. A seconda della pressione che gli fai su, avrà funzionalità diverse. Visto l'orologio, velocemente, vi faccio vedere già che ci sono anche il cinturino. Quello che ho preso verde. Il prezzo del cinturino sono 59 euro, questi in gomma. Poi arrivano, vanno su, arriveranno anche gli oltre, penso anche oltre 200 euro come niente. Abbiamo anche qui la linguetta, ma ovviamente dietro abbiamo la scritta del cinturino in questione. La linguetta si tira così e poi si dovrebbe aprire, ecco, anche questa scatola studiata molto bene, foglietti anche qua che escono da tutte le parti. Anche qui abbiamo la scritta Watch, carina. Si apre così, ci spenso le istruzioni e qua abbiamo le varie misure, una più grande e una più piccola. Esattamente come era, ecco qua, nell'altro quello che c'è di serie, quello nero. Ho scelto questo colore qua perché secondo me, a me personalmente l'abbinamento piaceva così e quindi questa è stata la scelta. Niente, velocemente penso vi avrebbe detto tutto, ma poi so, ah beh, dimenticavo, per il cinturino ci sarà da, per cambiare, da premere questo tastino qua sotto, che io so che si vedeva pochissimo, ecco qua, questo qua, e ovviamente c'è anche di qua. E sfigare, ovviamente io non l'ho mai fatto, quindi... Ah ecco, è anche più facile di quanto sembra, si dovrebbe capire. Ecco, questo va via così, è idem, vediamo, vedete questo tastino qua, idem questo, che andrà premuto, vediamo se, ecco, è sfigato. L'orologio veramente, sembra, lo hanno detto tutti, dal vivo è molto più piccolo di quanto sembra in foto. Quindi valutate bene cosa prendere, insomma, a secondo della misura, cioè, provatelo prima di prenderlo, se questo se vi posso dare un consiglio per così dire. E niente, detto tutto, io vi saluto e alla prossima.